Cercami è uno dei tanti brani di Renato Zero che fanno parte del patrimonio artistico del nostro paese. La canzone arriva nel 1998 nel fortunatissimo album Amore dopo Amore che sarà il disco più venduto dell'anno con circa un milione e duecentomila copie. Il singolo in particolare resterà in classifica per otto settimane ottenendo un riscontro più che positivo. Renato in questa fase della carriera che va verso la maturità si mostra al pubblico in maniera sobria e quanto mai essenziale pur non perdendo mai la sua forza e la sua vena artistica. Ed è proprio questo uno dei concetti che Zero vuol far passare attraverso questo testo dove chiede ancora di essere cercato da chi fino ad allora lo ha amato poiché anche senza più quel fare eccessivo di un tempo e nonostante gli anni che passano continuerà ad elargire amore e poesia non accettando mai di mettersi da parte. Fidati Quegli anni in fondo portano anche esperienza e Renato spinge il suo popolo a fidarsi ed a credere ancora una volta in lui con la consapevolezza di avere quel tessuto umano ed emozionale capace ancora di appassionare. Nel brano però il discorso non è solo personale ma è anche una considerazione sul modo di vedere e di vivere dei determinati anni in maniera superficiale e dimenticando i valori essenziali del rapporto tra esseri umani. Questa vita ci ha puniti già L'insoddisfazione qua Ci ha raggiunti facilmente Così poco abili anche noi A non dubitare mai Di una libertà indecente Anni in cui era palpabile l'insoddisfazione e dallo stesso tempo c'era un'ingenuità di fondo che non ha permesso di dubitare sulla bontà di certi comportamenti e di certi abitudini Comunque Cercami Cercami Non smettere Ora Renato, spogliato delle sue maschere, cerca la verità ed invita il suo popolo a seguirlo in nome dell'amore Cercami Un successo firmato Renato Zero Da La musica che gira intorno Di Marco Liberti La musica che gira intorno Grazie a tutti